Nello scenario terribile della seconda guerra mondiale, il 28 febbraio del 1945, Pierpaolo Pasolini e alcuni suoi amici fondavano a Casarsa l'Accademiuta del Lengua Furlana. Non solo una delle più belle pagine della storia di Casarsa, ma anche un omaggio alla meglio gioventù, sono le parole della sindaca Lavigna Clarotto pronunciate in occasione della celebrazione del 75esimo anno dalla fondazione dell'Accademiuta. Un omaggio, ha continuato la sindaca, a quei ragazzi che mentre tutto attorno si consumava la tragedia della guerra e la scuola era chiusa nella scuoletta del borgo di Versuta, guardavano al futuro studiando poesia, arte, letteratura guidati dal maestro Pierpaolo. Per il presidente del centro studi Pasolini, Piero Colussi, l'Accademiuta è stata un'avventura, soprattutto umana, e quella di Pasolini un'esperienza pedagogica irripetibile, riconosciuta con la consegna al centro studi del sigillo della regione da parte del presidente del consiglio, Pier Mauro Zanin. Alla celebrazione che si è svolta a Palazzo Burovic, sede del municipio di Casarsa, erano presenti anche alcuni protagonisti del tempo, Elio Choll, il grande fotografo casarsese, che il 18 febbraio scattò la storica foto in cui sono immortalati i Pasolini, i ragazzi e i poeti dell'Accademiuta davanti alla chiesa di Versuta. Foto che il fotografo ha autografato e donato agli eredi di quegli scolari speciali. Presente tra quei ragazzi anche il Nini, il più piccolo, Giuseppe Bertolin, che conserva ricordi vivissimi e affettuosi dei compagni e di Pasolini. Una persona buonissima, buonissima, quello che vuol dire una persona buona, onesta, aperta, primitiva quasi, e anche religiosa, e anche religiosa, nonostante... Assente purtroppo, per motivi di salute, Niconaldini, scrittore e poeta, cugino di Pasolini, figura di maggior spicco tra quanti frequentarono l'Accademiuta.